guardate ragazzi comunque è stato bravissimo ma veramente è becon quello gli stessi colori magari è marmellata Reby ma sembra una pokeball ma che cos'è ma che pokeball devo ancora finire adesso bisogna metterci un po' di cioccolata ma non sembra una zanbella allora molly destra o sinistra scegli sinistra ma questa è la destra eh vabbè la mia sinistra cioè la destra ok vabbè comunque è scelto bene guarda ci sono due euro qua dentro e questo che cosa vuol dire che sono miei no vuol dire un'altra cosa si sono anche tuoi ma oggi ti propongo una sfida fantastica sei pronto ok sentiamo un po' allora le vedi le nostre vending si sono belle e ovviamente quel soldino ti servirà per prendere un giochino giusto quindi nella vending machine dei foodies ma non così in fretta perché guarda qua ci sono un sacco di foodies delicious precious squeeze me allora sono tutti degli alimenti che però si muovono perché sono squishy e oggi ti propongo gireremo a turno la vending e dovremo disegnare il foodies che ci capiterà ci stai? ok io spero tanto nelle patatine allora io vorrei l'hamburger XXL ok quindi il foodies che trovo devo disegnarlo esatto e chi farà il disegno migliore vincerà ok speriamo speriamo in qualcosa di semplice vediamo un po' si che cosa l'hai già visto? l'ho già visto no ma io non lo vedo apri 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 ok adesso lo apro chissà la Reby dopo che cosa troverà ragazzi rimanete fino alla fine del video eh il mio foodies speriamo sia anche facile da disegnare cioè il mio il tuo non lo trovo ecco il pancake il pancake ragazzi ma guardate che cosa ho trovato è un pancake squishy ehi è mio ehi è mio questo pancake no non ci credo e comunque ragazzi non è così facile da disegnare perché è un pancake molto squishy che ha i mirtilli il burro e dentro che cosa c'è? del bacon? allora io comincierei è mio è mio sono un sacco di pancake allora quindi questo è squishy ma dopo si può anche mangiare dopo si può anche mangiare ok dopo faremo i pancake allora allora non è semplice per nulla no infatti però guarda 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 quanti colori che ci sono qua wow che bello ok allora allora hai fatto un tondo bravo Molly ora ti chiameremo Giotto si un attimo eh allora questi sono gli occhi gli occhi? gli occhi delle squishy ma non è il pancake eh non è gli occhi così grandi stai tranquilla senti come i cattini non è facile per niente Rebby anche le ciglia le hai fatte aspetta sembra un granchio così ma non è un granchio è un pancake è un granchio non è un granchio senti io voglio proprio vedere che squishy ti capiterà dopo visto che fai tanto la saputella che bello dovrò girare anche io la vending dopo allora vediamo quindi lui è così così è una piccola signorina è che carino questo granchio ma non è un granchio allora Molly devi disegnare un pancake deve essere anche buono dolce un attimo non è semplice per nulla vediamo un po' è perché quello è in 3D tu invece lo devi fare su un foglio a 4 ok questo qui è la fetta di burro ok quello è il burro poi vediamo allora che colore scelgo non è semplice allora io direi la senape no ma non è senape è il pancake che è fatto così non è senape un pancake alla senape non è un pancake alla senape Rebby ma quanto è carino questo pancake comunque assomiglia più a un granchietto che a un pancake ma bisogna dire che è molto carino Rebby mi stavo dimenticando una cosa il bacon no che cosa il bacon e i mirtilli i mirtilli si guardate che carini i mirtilli che buono mi sta venendo fame infatti sta venendo molta fame sembra molto buono questo pancake e soprattutto col burro fuso qua sopra allora i mirtilli così vanno super bene vediamo un po ecco qua oh ti dico se ti capitano le patatine fritte non vale perché sono le più semplici no no come non vale ma ci darà la sorte che cosa mi capita scusa la sorte non è stata molto carina vabbè ha dato i pancake i pancake sono buoni sono buoni ma non da disegnare sono difficili ragazzi mi raccomando voi rimanete fino alla fine perché poi dovrete votare qua sotto nei commentini qual è il disegno migliore sia quello di molly pancake o sia quello di rebi che ancora non si sa che cosa dovrà disegnare aiuto io ragazzi fossi in voi voterei già il disegno di bolly ma non si può ancora si votate votate ma non è giusto eh molly vorrei dirti che non hai tutto il pomeriggio dobbiamo darci una mozza forza un attimo mamma mia ma come vai il bacon fucsia non è fucsia no è vero guardate ragazzi comunque è stato bravissimo ma veramente è bacon quello gli stessi colori eh no magari è marmellata è marmellata rebi cioè i pancakes non ho mai sentito un pancake col becone e i mirtilli guardi a Londra e in America si fanno anche i pancake col becone e i mirtilli vero ragazzi schifo ma non è vero ma sono buoni e voilà è pronto il suo disegno vediamo un po' molly molly allora 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 si allora poteva venire un pochettino più carino però però carino ci accontentiamo va bene un bel pancake per molly breve mollettino allora vediamo adesso che cosa troverà la rete si guardate max che ci osserva dall'alto della sua cuccia ehi max la vuoi anche tu una monetina vuoi girare la ruota vuoi girare forse la vuole no non la vuole non la vuole girare lui vuole solo i foodie sveri allora molly sei pronto ma in gira speriamo uno facile uno facile uno facile uno facile eccolo adesso vediamo mi sa che mi piacerà questa cosa ragazzi ho già visto che cosa c'è dentro adesso non ci manca altro che aprirlo vediamo un po' non mi dir la pizza voilà è il dono la ciambella molto squissile no vabbè la ciambella guardate che bella no ragazzi la ciambella ma guardate che bella ma è bellissima la ciambellina ma dai la volevo fare io la ciambella adesso me la mangio no no non pensarti la mia ciambella è bellissima questa ciambella allora la devo disegnare ha una faccina molto simpatica soprattutto è squissi ok allora mettiamola qui non posso sbagliare perché la ciambella devo dire che sono stata molto fortunata allora potresti fare una cosa bella o una cosa bruttissima perché se sbagli si ma vabbè ma è troppo semplice è 2D il mio era in 3D non è giusto allora vuoi sapere una cosa la ciambella è bella per forza l'hai capita sì pessima vabbè pessima ok allora facciamo un bel buco questa ciambella ecco fatto ma cosa c'è sopra poi la glassa la glassa è la glassa allora facciamo due begli occhietti ma vedi la tua è in 2D è facile ecco gli occhietti della ciambella non è giusto le guanciotte rosse ecco fatto è una bella boccuccia della ciambella no vabbè ragazzi ma dai ha già vinto ma no ma non hai detto allora intanto te sei stato molto bravo c'è da dire allora qua c'ha un occhietto e un altro occhietto no vabbè ho già capito ragazzi che la Rebby mi straccerà ma non è vero non hai ancora finito di vedere come verrà il mio disegno magari poi sbaglio potresti sbagliare con i colori no 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 allora coloriamo la ciambellina ma è bellissima eh per forza che bella è una ciambella ha capito è facile dai la volevo adesso da una ciambella la farò diventare una ciambellissima ha capito oh sì sei in vena di battute orribili sì ammetto allora coloriamo gli occhietti della nostra ciambellina ecco qua sta iniziando sì ma tutte dritte così eh sì la ciambella ha le righe un po' dritte ecco un po' storte qua così ecco fatto ma Revi perché ogni volta che facciamo queste cose mi viene fame eh eh perché stiamo disegnando i foodies mamma mia c'è prima i pancake e adesso le ciambelle poi le ciambelle allora attenzione perché questa ciambellina ha le righe tutte storte oh mamma ok così così e così carina comunque molto bella per ora era la mia ciambellina ti piace allora adesso devo stare attenta con i colori che colore usi eh devo usare la farcitura blu la farcitura eh era blu guarda Revi io ti avrei consigliato una cosa perché la ciambella qua sotto è un pochettino color senape eh lo so e tu non l'hai fatta aspetta adesso devo ancora finire piccola ciambella Revi ma sembra una pokeball ma che cos'è ma che pokeball devo ancora finire adesso bisogna metterci un po' di cioccolare ma non sembra una ciambella è tutta blu ma cosa stai dicendo sono le il condimento ti manca te l'ho detto il colore giallo adesso ce lo mettiamo stai tranquillo non mi mettere fretta la mia ciambellina ha bisogno di cuocere con tempo in forno muoviti 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 guardate che baruna aveva già fatto il contorno ma no ma questo è il contorno del dentro della ciambella ok qui stiamo barando un po' ma non stiamo barando sto facendo il dentro della ciambellina ecco vedi così è tutta gialla ecco fatto la ciambella e quindi mi sembrava un po' stana ecco e un po' anche qua ma ecco fatto tutto intorno mi hai strazzato mi sa no allora il tuo pancake è bello c'è da dire ma la mia ciambella è di più ecco fatto mettiamoci il nome Reppy ecco qua ed ecco la ciambellina di Reppy allora c'è da dire che abbiamo fatto entrambi due fantastici disegni guardate un po' ragazzi allora mi raccomando voi qua sotto nei commentini votate se preferite il disegno dei pancake squishy di Molly o la ciambella squishy di Reppy guardate che carini che sono beh dai però direi che siamo stati anche molto bravi eh guardate un po' io direi una cosa hai vinto hai vinto te dai dici che ho vinto io beh dai allora però facciamo così se volete la rivincita lasciate un bel mi piace a questo video allora facciamo anche così che chi vince si prende lo squishy dell'altro sono onesto quindi mi prendo tutti e due mi prendi tutti e due ma la prossima volta la rivincita potrei prenderli tutti ok ragazzi per oggi è tutto se volete la rivincita fatecelo sapere qua sotto in un commentino perché scommetteremo un'altra volta i nostri squishy esatto e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo fantastico video ciao ciao